Ok, secondo che facciamo così, Mandese Games, let's go, Peggy 18, no? Finga, dopo il gioco di prima non mi sembra un audio al 100 questo qua, Bordeless, bravissimo, V-SyncCon, ci piace, let's go, ah, questo gioco qui è stato fatto da un dev solo, regà, eh, andiamo a parmi, ha fatto tutto lui. Ha studiato pianoforte per 12 anni per comporre questa cosa. Anzio assordante, ricordo ancora la nostra ultima alba sul mare, quando la calma assoluta e il rumore delle onde sulla battigia ci suggerivano un tempo eterno, vissuto solo da noi, resi anima e corpo da un amore mai provato. E accarezzando il tuo volto irradiato dal calore magenta delle prime luci, la sensazione unica di appartenerci da sempre e per sempre. Sono morti? Ma no, è che non è lui, para. È che vi fate fottere dalla cadenza? Due mesi dopo, uomini e donne iniziavano a parlare di un nuovo santo che anonimamente compiva miracoli di guarigioni, impossibili con la sola scienza medica. La gente iniziava a invocare il suo aiuto nei luoghi di culto, e quando innumerevoli iniziarono a credere in lui, come unico appiglio di vita, lui mostrò il suo volto, rivelando il suo nome al mondo. Chris Santito. Il Frank Cho fu la prima trasmissione ad ospitarlo. Chris Santito è tipo Cristo Santo. Benvenuti su Tele Journal 7. Quest'oggi siamo in compagnia dell'Uomo dei Miracoli. Sono ormai più di mille le persone salvate, quasi tutte vittime di incidenti mortali e malattie incurabili in fase terminale. È veramente un onore per me poterle incontrare. La prima domanda che vorrei porle è... come ci riesce? È un dono, Frank. Mi ha donato il potere di ammettare. Credo che lui abbia doppiato tutti i pigini. Basta semplicemente amarmi. Se mi amerete, io ricambierò. È un nuovo inizio per tutti noi. Un nuovo inizio? Cosa intende dire? Chi mi seguirà vedrà la grandezza di una luce che non ha mai immaginato. Ci sono persone che la accostano al nuovo Messia. Che cosa pensa a riguardo? Non ho la pretesa di darmi un nome. So che il mio scopo, il mio dono, è poter essere ciò che ognuno di voi vorrebbe che fossi. Salvare animo. No, raga, ma dovete aspettare il gameplay. So legate a tutti voi, a quelle persone, a lei. Però c'è tanto... secondo me è tanta roba, eh. E la risposta alla fragilità della vostra fede. Semplicemente, esistendo, offro qualcosa in cui credere. Qualche mese più tardi, il tumore di Michael era ormai allo stadio termine. Esatto, Lele. In quel periodo, Chris era in Europa. E Michael impegnò tutte le sue ultime energie per riuscire... Minchia sei riuscito a milioni di molti attori italiani? Michael tornò a St. John perfettamente sano. Lavoravamo di nuovo spalla a spalla. Ma sentivo che, dentro di lui, quella normalità riconquistata non gli sarebbe appartenuta mai più. Quello stronzo di Giacobo non lo sopporto più. Sono di nuovo... Quindi è Ronaldo? È Cristiano Ronaldo dopo che si è fatto una pista? Certo che è pazzesco. Ti ha guarito dal cancro solo toccandoti. Quando ripenso a questa cosa mi viene la pelle d'oca. È tu che mi volevi affettare con il tuo portafortuna. Beh, se vuoi, siamo ancora in tempo. Porca troia! Dove l'ha messo? No! Dove l'ha messo quel coltello lì? No, Johnny! Mi hanno bucato le gomme! No! No! Che diavolo è stato, Michael? 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 Minchia la peperonata, Michael! Ok, sono pronto. Fatto. Vaffanculo, Michael! Minchia che rollone! Io ho? Per contrattaccare, eh? Che teschio, raga? Ah, ok. Arato, cazzo. Hai capito, Michael? Mi sei sempre stato sul cazzo. Go! Porca troia! Cos'è sto vento? Ma che... Ok. Non c'è il clacson, però. Manca il clacson! Ma... Help! Ok, tutto a posto, raga. Tutto a posto. Cos'hai detto che non c'è il clac... Ah, un palazzo è caduto! Gli passiamo in mezzo. Lo sposto! Non so se... Andiamo a posto il palazzo. Ok. Credo che sto andando nella direzione giusta a sinistra. Che cazzo! Ok, siamo usciti. Non ci sono più palazzi che casano ora. Guarda che taglio ottimo! Ci piace! Rispondi, per favore. Oh, porca puttana! Che diavolo sta succedendo? In ogni parte del mondo si sta battendo questa tempesta. Una pioggia di meteore sta devastando intere città. Abbiamo perso i contatti con Washington, New York, Chicago, Philadelphia. Iniziamo tutti gli ascoltatori nei pressi di Greenwich a rifugiarsi nel rifugio anti-atomico situato in Stepperwall Street. Santo Dio, ti prego io, dimmi che stai bene. Alcuni minuti dopo... Faccio fuori campo io. Si fa anche la voce da donna a muoio. Stai bene? No. Sì, sì. Sì, tu stai bene? Sì, ma... Sto arrivando. Non muoverti di casa. Cazzo, sbrigati. Ma sta succedendo sul serio? Io... Mi ha svegliato a un tonfo. I vicini stavano andando via. Si faceva la voce da donna, ragotti. Ci sono video ovunque. Pensavo fosse uno scherzo all'inizio, ma ho acceso la tv e... Adam, ci sono zonerate al suolo. È un incubo. Ho paura. Brava lei. Sarò da te in dieci minuti. Devi blindarti in casa, non aprire a nessuno. Michael, è con te. Adam, mi senti? Ascolta. A Michael è successo qualcosa. Cosa? Ho dovuto difendermi. Cioè, l'ho visto con i miei occhi. Non era lui. Difenderti da chi? Adam, che stai dicendo? Questa serie di eventi tutti connessi tra loro. Prima Michael, poi il tornado. Adesso dei cazzo di meteoriti che si schiantano. Cosa hai visto, Adam? Mi fai paura. Sono già terrorizzata. E sola. Ho bisogno di te. Ti prego. Qui scatta la domanda. Come sei vestita? Ma che curva era? Ma neanche gli autoscontri. Lì non potrà succederci nulla. Ci saranno anche altre persone. Saremo al sicuro. Io i meteoriti non li ho visti. Arrivato a casa, però non potevo credere a quello che avevo trovato. Oh cazzo. Ehi, Eve. Sono a casa. Eve. Ci sei? Eve? Ma... Cosa? Oh cazzo. È il giorno del ciclo abbondante. Eve. Pronto. Adam, ascolta attentamente. Resta calmo. So cos'è il successo ad Eve. Posso aiutarti. Cosa? Come sta, Eve? E come sai che sono da lei? Che sta succedendo? Rispondi. Chi sei? Non ho tempo per spiegazioni. Dirigiti in via St. Jeremy al civico 37. Troverai un palazzo con uno strano simbolo. Una specie di fiore circondato da un cerchio. Come posso fidarmi di te? Che razza di storie è questa? In cosa è coinvolta Eve? Sei coinvolto anche tu fino al collo, Adam. Ti vogliono morto. Resta vivo e forse al palazzo tutto ti sarà più chiaro. La mia ombra non ha i capelli. Sono letteral... Eeeh. Ok. Sono letteralmente mastrolindo nell'ombra, raga. Guardate. Cos'è sta cosa che ho sulla schiena, raga? È il fodero del coltello? Sì, sì. È tutto zombo. Arati. Arati. Che non si può saltare. Le animazioni non sono brutte. C'è un survivor, aiutiamolo. È inseguito da Michael Jackson, cazzo, quello del tipico passo di thriller. It's close to midnight. Anche lo sapevo che le faceva duemila all'ora le scale zero all'avo. Arato. va bene, non mi serve un tutorial io sono un campione, Gianni ok, ok dobbiamo fare new game without tutorial così ora, però ci serviva proprio il coso posizione di pistola bende spray medico ok bastiamo un attimo la sensazione che ha cannone se vuole usare il coltello ah ok, clic normale coltello secondo quello che abbiamo visto possiamo già dire che è meglio di Gollum vabbè, quello assolutamente noi dobbiamo andare al segno rosso dito al segno verde io direi al rosso marato cazzo eh, rollo è un pelino troppo lungo cioè facilita tanto la questione non capisco se c'è la stama circa un istintor ok non capisco E non si capisce bene cosa luti quando lo luti Cioè una volta che lo prendi sì ma prima di prenderlo no Conviene credo sparare perché con un headshot te li fai A meno non rischi di venire irritato Sta stronza non è morta Sta stronza non è morta Niente Le donne sono resilienti ragazzi Anche da morte devono rompere Volevo dire hanno la pellaccia dura sempre Oh ciao Amy tutto a posto? Passata una buona giornata Lut dietro dove? Fu io? Oh merda Acqua Acqua Non di qua? Ok è un tronchese abbiamo lutato Quindi probabilmente c'è una roba da tagliare Mi sembra un'altra roba da tagliare Mi sembra un roll di Nioh vero? Però regà allora Calcolando che l'ha fatta una persona sola non mi sembra così una merda come gioco eh Abbiamo giocato ben di peggio? L'audio non è in sync? No si Non è che non è lo stream 1080? A volte Twitch fa quella cagata lì quando o laghi troppo e quindi devi fare F5 Tu 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 Uno sito d'attivo ok Tronchese potrebbe aprire ok Esca E Usa Ok Tronchese se ne è andato? Ok quindi gli item una volta che li usi li perdi Anche l'animazione del mob che si dissolve non è male Questo scoppia? No E se cosa un bastard derrimi Mi piace che le robe da lottare Hanno la luna intorno e quindi le vedi da un chilometro Adoro Ogni gioco dovrebbe fottutamente essere Voi vengono santi Altrimenti potrebbe esplodere Ok Va bene Lo sapevamo già Ehm Ehm Arato Arato Ah ragazzi è così eh Come i mob tiarono in un secondo tu tiarono i mob in un secondo E' la dura vita dello zobbo Allora ok Dobbiamo andare su e spegnere il fuoco Adesso diventa Rosco McGuire Ci avevamo messo una settimana a farlo E' vero cazzo E' come quando fai le robe buone da mangiare Che ci metti magari due o tre ore E poi trenta secondi a mangiarla Ma non era un boss raga Era un Lo chiamiamo elite Ehm Grazie Barbie con i quattro Welcome beckerino Thank you thank you Ah vedi se tipo di sparare le gambe così Comunque li stunni prima Ah non mi piace rinventare con lei Invece che col tub Fa molto anni 90 Però adoro la scarpa bianca Molto molto stilosa Porca Di quella Dead Game over Ci sta Ci sta ragazzi Ancuno Non ti sono Oh 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 A uno alla volta Scusami sto aprendo qui non po' Dai Fuck you Gioco generoso in quanto a colpisino Infatti mi sa che li devo ammazzare tutti Perché di solito quando sono così tanti Devi scappare Ma qua mi sa che li devo ammazzare Allora proviamo a usare la bomba per loro Allora proviamo a usare la bomba per loro Porca troia Game over No usiamo la bomba per lui va che cazzuto Sto strunz Non c'è più di più di una di bomba No credo solo una Ok Easy Arriva l'orda Ok dai direi non male Sto strunza Oh però i danni sono alpi Bellissima la cosa che vedi male quando sei lo HP Adoro i giochi che hanno sta feature Mi da un senso di realismo assurdo Non c'è passato Ah, hai una botola? Ok. Come stanno anche così per il motion adapter, quindi tanto io non li vedo sfocato da un occhio. Christian e Henderson chiave a lucchetto, ok? Giù per il tubo. Chiave a croce? Oh cazzo, ma... Bubusette te. No, non puoi passare in mezzo alle scale! Easy! Hai capito? Ah, ma... Non so perché con lui mi rimaneva appiggiato nel tasto destro, cioè non dovevo tenerelo schiacciato. Ah, c'è una fucile a pompa qua! Cazzo, era meglio farlo col pompa forse? Abbiamo un cazzo di colpi dalla pistola, ma... Sono visto anche qui, no no, spariamo! Oh! Sali! 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 Ehi, anche... Non cazzo... Io ho un punto positivo Per il momento glielo do Cioè, chiaro, non è un gioco da 10 Però Amica, ma c'è un punta Un lunghissimo i roll Ok L'audio mi piace Quanto costa Oddio, sapete che non mi ricordo Ma me l'ha regalato Non mi ricordo, sono onesto 15 euro Dai cazzo, 15 euro li vale, regà Dai abbiamo giocato porcherie Da 15, 20, 30 euro Ben peggiori Ma di tanto peggiori di questo Cioè, lo sto giocando volentieri io Non lo dico per scherzare Cristo, vaffanculo Oh Game over Oh Secondo eh? Sì Sì, hai visto Anche pinto lo spavento Come mi avevi chiesto Con il soffio cane Sì No No, non c'è bisogno di un orologio Il simponifico va benissimo Veramente Ma no Ma l'ho fatto con piacere Il mio lavoro Ah scusate non ho mutato Da dove cazzo sono arrivati i cani Raga Ma questo scoppia? Ah sì, ok No, i cani Mamma mia Come mi sono spaccato malissimo Raga No, continuo a rotolare No, ti prego Inerzia Fermami No, tenemo a martedì Ma che cazzo Ma ogni volta cambia da posto Da qui arriva Smoorfed Ma quanti sono Help Dove devo andare? Cazzo Mi sa che devo andare in fondo Di là Questi gli skippiamo Sono troppi Eh sì C'è tanto da lavorare Cama Tanto tanto Non è male l'idea Di quel gioco lì Eh Però Non è né carne né pesce Dai Philippe Banks Presto Oh merda Esca, esca Torna in tre Dai Mi ha sfondato Nel mentre Ok E come apriamo qua? Hmm Hmm Easy Chiaramente 0000 Ciao Dagaz Vai dire Dubito che la targa Della polizia Abbia qualcosa A che vedere Col codice Non abbiamo trovato Messaggi In giro Niente Sta scaletta È fake Di qua non c'è niente Sulla portiera c'è un numero scritto col sangue Sì E credo perché Qua ho tutti i muri invisibili No Dove l'hai visto Johnny? Mi cazzo è scritto il codice? Scoprì che il codice della targa e della macchia No perché sono tre lettere Quindi questo è quattro Poi c cinquantatré Rumori diversi non ne fa Giustamente Proviamo a girare l'intorno da qui No mi piace che i mob non respawnano come nei veri giochi di questo genere In modo che anche backtrackando sai dove sei andato Sai dove non sei andato Perché Qui giustamente Come il gameplay Si fa giocare tranquillamente È un po' di legno in alcune cose Però non Niente di grave C'era veramente scritto 0000 nel muro Ma dove? Sul muro nell'edificio dove sei entrato Ma dove raga? Ah là Quello di te Raga sono quattro cavi Che problema avete? Figa Average Twitch chat Aspetta non è che non siamo entrati da qui dove è uscito il cane? O forse sì? No qua non siamo entrati Ah chiave a croce Iacob no! Iacob no! Adam Mi dispiace Non sono riuscito a fermarli Non muoverti, non muoverti Ti porto via, ci penso io Cerca solo di aggrapparti a me Lascia perdere Un prete sa quando Dio lo sta chiamando È un prete Mi sembrava uno che era andato dal parrucchiere Raga qualcosa così sembrava che aveva il coso Abba ti abbi, maledizione Sta accetta Tu devi sapere Questi esseri non si fermeranno fino a quando i sette sigili non si saranno spezzati Basta Giacob Mi direi tutto quando starei bene Dobbiamo andare Adam Solo tu puoi Prendi la tua arma e fai diventare benedetti i suoi colpi L'acqua santa Usa la boccetta Salvagina Giacob Giacob Beh Ok abbiamo preso l'acqua santa Poi com'è l'acqua santa che prima per mettere una potenza Dopo potrò usare i potenti che il candolo sono solamente quando le ho equipaggiate Ok Questa lavatrice che ti ha forbiato Può essere Mavri La lavatrice è un pelino di razzismo Complimenti Va bene Q e Y Ok Va bene Questi tutorial però sono un pelino invasivi Ok Grazie Qui c'è la password 1754 2026 2613 Ormai so chi si nasconde dietro l'uomo dei miracoli Il nuovo messia Sin dalla sua prima apparizione nel 2026 Sono passati già due anni Avvertivo una nuova presenza Diabolica Aveva conquistato il cuore di tutti con i suoi miracoli Arrivato al mare camminando sull'acqua A largo della costa australiana Con il semplice tocco della sua mano Con la semplice tocco della sua mano Con la camicia con i baffi Ha guarito tutti i pazienti terminali del Royal Melbourne Hospital E successivamente anche di altri ospedali del resto del mondo Devo ammettere che anch'io di fronte a tanto entusiasmo Mi convinsi che potesse essere il nuovo Salvatore Ben presto però capì che mi sbagliavo Tutti i suoi miracoli Iniziarono dopo pochi mesi A scivolare negli abissi delle tenebre Il Salvatore aveva salvato i loro corpi E condannato le loro anima all'inferno Il processo di trasformazione di queste povere persone Seguiva lo stesso percorso dei posseduti Che per anni ho combattuto con l'aiuto di Dio Effetto esorcismi da moltissimi anni Ma mai così tanti da quando è tra noi I casi sono troppi Dio sono distrutto Non ce la faccio combatterli tutti Tra l'altro il rituale romano Sembra un efficace contro tutto questo male Il tredicesimo capitolo dell'Apocalisse di San Giovanni Parlava di una bestia venuta dal mare Sono convinto che il giorno del giudizio Si ormai alle porte L'anticristo è arrivato 26-13 raga O 13-26 Ehm Hello Ok Ma fingo Niente vide Ai 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 Tu 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 Di là Sì Bydent Esatto Allora 26 3-6 3-GT Clac Easy E siamo a casa del prete Hai capito con le donazioni alla chiesa Cosa ha fatto prete? Ma che cazzo Mi ha fatto cagare adosso l'urlo Ok E vedi ecco Un cavallo bianco Quello che lo cavalcava Aveva un arco Gli fu data una corona Ed egli uscì vincitore per vincere ancora Vittorioso per vincere ancora Hai visto Apino? Oh cazzarola vacca impestata Gianni devo fare le munizioni però Presto tornerò per strappare via ogni traccia di speranza Ok Ora però ti devo rompere il culo Perdonami Fighe le mie orecchie Sì ma questa è l'acqua santa di Gardaland Guarda che spruzzi che fa Non è che si può abbassare la musica ogni volta che smicchia È il diavolo regà Che cazzo Vuoi che i tromboni non si mettono in pauta per lui Che traccata Johnny No mi ha arato No hai capito dopo che ti uccide lui che ti dice game over Che bastardo È come solo Enigmis Per tutta la vita hai combattuto i demoni Sparandogli con l'acqua santa Ora Sarà santa a sparare a te Con dell'acqua Vivere o morire Inizia il gioco Aia Intanto fotti Ti mi hai dato la chiave a cuore Oh much love Beh Vediamo qui rappresentata La formica falina Cazzo mandingo È una rarissima specie No cazzo Rimettilo su che si arriva al prete e mi rompe il culo No 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 che si arriva al prete e si incazza Riattaccalo riattaccalo Lascialo così Andiamo via piano piano raga Shhh No dai non posso più spostarlo mo No raga non posso più spostarlo C'è dietro l'enigma Dai Ho trollato raga No ho riattaccato Non scende più No ho rotto il gioco No Vedi a fare il cazzone Ma dai Ricarica Non so se dopo che l'ho fatto prima C'è dopo Ok Un codice bello lungo This is the end Possiamo ancora nelle parti del dipinto Ok Porta cuore Grazie a tutti Sono per i colpi qua Pare strano, dai Una porta che si apre con la chiave per dei colpi Ciao Arca, buonasera A quanto pare per ora si, magari serve qualcosa dopo I porti ci sono Odda, El Perché vedo sfocato su più di mezza vita? Porta cuore No, erano gemelli Che non ho più cure, raga Hardest game ever Questo scaffale manca nel libro Ragnarok Ragnarok Ok Se manca come facciamo a sapere quale manca? Di che? Ah, è il libro Ragnarok E boh, perché c'è scritto inserire Ragnarok qui Minchia ne so, raga Avrà lavorato in una libreria per lui Ok, no, non siamo ancora arrivati insieme Ma quanto cazzo è alto sto posto, raga? Oh merda Vaffanculo Snake 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Strums Merda Merda Esatto potrebbe essere 18 10 e poi l'ora dell'orologio che dice this is the end Oddio no vero? Oh shit Vabbè aspetta però 18 10 Cos'è? 11 46 No purtroppo non ci stanno tutti i numeri Forse insegna 12 9 Perchè mi è venuto il lucchetto? Cosa può essere? This is the end This is the end E 9 12 è già provato No Mmm Ma fammi capire ma sopra adesso Ah no perchè mi ha fatto un save e non ho più colpi Credo che sopra Io abbia comunque fatto Mi ha fatto un ce No Cioè mi ha usato i colpi? Non credo Magari non ce l'ha da buona perchè non abbiamo letto il documento Ragazzi Eh esatto anche voi pensate da sempre Va bene proviamo E' stronzo io che non ho salvato No This is the fight you cannot win Tu 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 This is my message to my master Qui c'era il vermone eh No? No? Non ci sono la porta primo piano e dopo la prendiamo No? E' lasciata la porta per primo piano e dopo la prendiamo Grazie a tutti. No, qua c'era il vermone, vero? Ma what? Non c'è più il vermone, raga? No, ma non sono i colpi giusti? Ma neanche questi? Non lo so. Ma dentro il muro! E no, che non sono giusti quelli. Eh, affanculo, vabbè. Siamo stati un po' arati, raga, avevo sbagliato colpi. Non capivo se erano quelli pimpati oppure no. I need healing, I need healing. Please, no, I need healing. Basta colpi. Medic, medic. Le ragazze avevano trovato il documento, raga? Grazie a tutti. medici adesso scopri che RNG no 18-10 ok bella stessa con i 7 e anto che la gifta molto trash dai chat è il momento oggi è l'ultimo giorno della settimana domani è giorno di riposo c'è una barra da riempire facciamo un piccolo sforzo ognuno di noi riempiamo la barra come on be chickens ognuno di noi riempire ognuno di noi riempire dei rischi bidus i need the doctor to bring me back to life dov'è quello col cuore che mi sono bevuto dai che dentro c'è un med per forza porta col cuore vuol dire che sono amato da chi c'è dentro e mi darà un med parlami Ah, cazzo, nei vasi c'è la roba, regà. Nei vasi, there's the loot. There's the loot. No, 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 no. No, 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 no. Cazzo. Svuotiamo il conto per riempire la barra. Thank you, Don. Svuotiamo il conto per riempire la barra. Thank you, my friend. 18, 10, 9, 12, avevamo provato. Vaffanculo. 119. No. This is the end. Potrebbe essere un bait di 7 cifre. Anche potrebbe essere un bait, sì, però 18, 10 non è la roba giusta. Scusami. No. 9, 5, 8. No. Abbiamo già provato il 18, 10. Busco su 11, 47, non ha capito il gioco. 18, 10, 129. Eh, l'abbiamo già fatto, Memole. E Memole è il nome mio. Tudu. Nope. E che devi trovare le loro Ragnarok. Eh, ma credo che le... Credo che le robe che potevamo fare le abbiamo viste. Vediamo, rifacciamo un giro. Questo è un altro orologio, volendo. Sì, i numeri massimilamenti da ragazzi sono 7. Non vorrei essermi bevuto qualcosa qua. No. Ho visto il codice, non so come può arrivarci. In che senso? No. Il nome del quadro di Blake è dietro cui c'era la cazzaforza e il numero della bestia. 666. Allora, questo aveva tipo un bigliettino bianco, però non... No, non me lo fa guardare. Cioè, quindi 18, 10? No. Ok, 666, 18, 10. Minchia, cioè, se uno non sa... Io non sapevo che si chiamasse il numero della bestia quel quadro. Ok, chiave a cerchio. Beh, la Ziffi con il 86. Spero che nella chiave a cerchio ci sia un med, raga. Com'è fatta quella cerchia? Andiamo così. Ok, grazie. I need bullets, I need med, I need everything Ma forse è questa Uno spray! Mio! Mio! Oh! Ok, refill di ammo anche Forse con un grimaldello potrei aprirli Ok, quindi qua ci sono il grimaldello Cioè quindi abbiamo aperto la senza bianca e non è servito un cazzo C'è la senza cerchio E non è servito un cazzo Però ce n'è un'altra sopra, mi pare Grilletto più veloce del Devilshire No, testepo a martedì C'è una fiesione sférica, può esserci inserito un oggetto Ma che cazzo Ah, una luce È strappato il pipo e ce l'ha in mano Oh cazzo, raga Andiamo a mettere in mano una sfera Sembra che questo si possa rimuovere con il giusto attrezzo Ah, quindi il grimaldello di là, cacciavite o similare per qui Però sembra che abbiamo ancora la chiave a cerchio, vuol dire che manca una porta Più per una stanza potremmo usarlo Eh, ci ho pensato anch'io ma non me lo fa fare Oddio per quel mob Salva, ma sono così forte, perché devo salvare? Come siete, raga? Eve? Wally? Minchia, Eve? Boom! Boom! Un mostro di audio cassette Ok, il grimaldello qua Eh, il grimaldello serviva, oh merda Bastardo Ora capisco perché si dà tanto da fare, vero? Il grimaldello era sotto? Ah, tife Ieri le tette di tife, oggi buona Eva e allora No Chiave del re Chiave del re Ovviamente ogni volta che c'è un fischio Scusami Prima gene reale impressa E io c'ho la chiave del re Ah, però la fa vedere nell'anteprima del re Vabbè, questa è il re Che a me onestamente sembrava il vestito di LeBlanc Senza LeBlanc dentro, però No Oh baby No No Un gramofono se solo avessi un disco potrei ascoltarlo Ma non è che dobbiamo fare un concerto qua Cioè, sopra c'è il mangianastri Con il grammofono Mad please Dai Mad qua dentro You mother E' un bel meter nel vaso Perché no? Cioè, ben tornato al grimaldello Cazzo che è per la main Vuoi che non ci trovi un mad? No No Come si fa lì? Guarda che quello sicuramente era un mad Non lo possiamo prendere Perché il gioco è bug No Sono spawnati i mob I feel it Dov'era la cassetta? Sì ma io c'ho due HP Oh baby Eh no Sono i colpi del pompo quelli con l'acqua santa Che fanno i fantadanni Oh come mi ha lanciato dai! No è crashato! Oh fuck! No è crashato raga! Reopen it! Cazzo se non ho salvato un delirio! Erano 12 milioni di porte? No Tetoro dormi bene a martedì! No 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 no! Il gioco completo! Ok Grimaldello quindi la chiave... no vuol dire che si sono chiuse tutte le porte! Questa è ora! Report! Ciao monkey! Porca puttana! Vaffanculo! No! 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 Questa puttana raga! Eh ma adesso è un po' un delirio perché vatti a ritrovare e a ricordare mo' che porta Questa era quella con il mangianastri! Si si sono chiuse tutte! Si vede anche quelle col cuore si sono chiuse! Ok! Dai qua ancora c'è, bende, thanks god, ammo le pompa, pinze, ti ho visto sponare Ok aspetta facciamo un altro mix di, non c'avevo l'acqua santa, l'ho finito, oh cazzo raga, we fucked, abbiamo gli ultimi 4 proiettili con l'acqua santa, ci serve un'altro, un'altra boccettina di Ode Jesus, sembra un altro prete che sta morendo esatto Prima non è mai mica arrivato da qua il mob che mi ha spaccato In realtà potremmo usare anche il pompa che abbiamo veramente tanti colpi normali Però mi scazza, figa, basta un colpo di pistola per ucciderli questi Madonna ma quanta roba c'è in sta casa raga, meccanismo, manca la leva Qui non era niente Ma che ripeto per essere fatto da uno solo non è malvagia sta roba, anzi Credo che sia su che dobbiamo andare, abbiamo il mangianastri ora Giusto? C'è la cassetta dobbiamo sentire Abbiamo la cassetta, la chiave del re, che dobbiamo ancora aprirci qualcosa E le pinze Le pinze abbiamo Ah, è vero, la sfera Ma questo è grammofono, niente E mi sa che la dobbiamo ritrovare quella room lì perché È la room che abbiamo visto che poi siamo morti e non l'abbiamo fatta Credo Credo Ecco E' un colo, oooohh Di Gazzoso, no? Cos'is is frienden Erano tutti in fila per il bagno, che sbatta. Minchia, lui sì è un maestro leggendario del roly-poly, raga. Cioè per come rolla si può dire che è quasi l'inventore del roly-poly. Il custode del roly-poly. L'amante del roly-poly. Più del gigante degli Elden Ring. È il discepolo del gigante degli Elden Ring. Un'altra cassetta. Stavo salendo o scendendo, chat? Salivo, vero sì? Ah, cazzo. E ogni volta che facciamo uno step di qualcosa, ragazzi, generano tot zombie. Oh, cazzo. Le palle del cane. Altro che Red Dead. Non temo anche in. E quello era il codice. Chi oserà sfidarci, soccomberà nel dolore e nella sofferenza. Il regno del Messia non avrà fine. Lunga vita al nostro Messia. Lunga vita al nostro Messia. Viva, viva, è presi niente. Abbiamo finalmente trovato la donna che aprirà le porte dell'inferno. Sì, ma io devo ascoltare il resto del messaggio. Non è che devo combinarli? Abbiamo finalmente trovato la donna che aprirà le porte dell'inferno. Chi oserà sfidarci, soccomberà nel dolore e nella sofferenza. Il regno del Messia non avrà fine. Lunga vita al nostro Messia. Lunga vita al nostro Messia. Adam, voi umani siete presuntuosi a credere di poter interferire con i nostri piani. L'iva è nostra e non c'è nulla che tu possa fare per salvarla. Ok. No! Lasciate stare, Iva. Non permetterò che le facciate del male. Ingenuo. Non hai idea di cosa stai affrontando. Lascia questo luogo. O subirai un destino peggiore di ogni incubo. Non ho paura di te. Farò tutto ciò che è necessario per salvare Iva. Allora così sia. Se non obbedisci, scaglierò su di te una creatura che ti strazierà oltre ogni immaginazione. La tua audacia ti condurrà alla tua rovincia. Ha fatto un ragazzo da solo, tif. Cioè, tutte le voci da uomo le ha fatte tutte lui. Magari anche quella della donna. Minchia, chi è che ha smerdato tutto in giro? Oh, cazzo. Ma qui è fatto bene. Colpa mia, scusate. Oh, Cristian Anderson. È una merdosa bambina, regà. Comanda la schiena. Fuck! Ok. 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 Sì, ma quanti piani è sta roba? Ogni volta è più alta sta casa, regà. Ok. Ok, sono arrivato giù, piccola stronza. Dove sei? Non mi dire che sei salita. Qui la sapienza, qui sta la sapienza. Chi ha intendimento conti il numero della bestia, poiché è un numero d'uomo. È un numero... Ah, vedi, questo è per l'enigma di prima, ma era buggato, non me lo faceva prendere. Il 666, regà. Mo ti esce, sì, questo è un baghettino. Dai, ma dov'è sta vacca? Cioè, non possiamo neanche sprintare, regà. Emily! È un baghettino. È un baghettino. No, lei non si è buggata. Pensa che sbatta quella, mentre la prima cosa si è anche messa a chiudere tutte le porte. Ma quella porta lì è aperta, l'unica. Dietro di noi, no? No. 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 Abbiamo trovato il Ragnarok e l'acqua santa. questa picchia addirittura un kit medico regà un kit medico uno spray medico va bene ma che ok aspetta aspetta riloggo what che figata mi si è portata via mi si è portata via abbiamo solo nove colpi da la Easy Bende ne abbiamo No abbiamo kit medico Ci spariamo un questo Che ci da il 50 Andremo più o meno full E adesso dobbiamo ritrovare la stanza Quella con il libro Qualcuno si ricorda qual era? Credo che era una delle prime Giusto? Quindi dovrebbe essere tipo in basso Sicuramente era sulla destra Cioè su questa parte qui Come chiave doveva essere o cuore o re Cioè perdono cuore o cerchio Oppure addirittura senza No sicuramente non re Cuore ok No sicuramente non re No sicuramente non re No sicuramente non re Niente ragazzi non troveremo mai Rip Hanno tolto il libro Era quella dove ha ucciso la bimba Ma va Ma va Eravamo qui Ma vaffanculo tu pensa Ed è subito E' subito Tomb Raider Dentro direi Allora solo i loro sguardi avrebbero rivelato il tesoro nascosto The end is near The end is coming The end is coming Mamma ma ma Mamma ma ma Mamma ma 5000IQ puzzle Ho preso due cose Ma la seconda non so cosa fosse la prima era una chiave a una parte di drago ma certo però io sono cotto cottissimo allora il gioco io salvo e quello continuiamo per sono cotto ci fermiamo qui